Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg Aspiri News, organo informativo della trasmissione Aspirina. Buonasera. Apriamo con un resoconto sull'importante incontro istituzionale che si è svolto a Cagliari tra il presidente della regione Francesco Pigliaru e l'emiro del Qatar Faisal Bin Altani. Aspirinus ha seguito alcune fasi dell'evento. Un incontro intenso e fruttuoso per la Sardegna. Sentirete dalle stesse parole dell'emiro i punti salienti sugli accordi presi dalle parti. Carissimo. Mi scusi se non mi sono imburcato, non l'ho fatto in tempo. M'inclino. E quindi, tutto bello? Prego, alla. E sei qui. Ecco, l'è presidente o il presidente? Onorato, saluti. A nome della Sardegna, ci facciamo la fotina ufficiale. Più a destra, presidente. Più a sinistra. L'emiro oggi non vorrebbe parlare troppo, è un po' congestionato. Qatar? Ha detto che se la passa da una mano all'altra, scarasciando di tanto in tanto, ma non vorrebbe insomma... Bene, non perdiamo l'occasione di illustrare al nostro emiro del Qatar quali sono le grandissime opportunità di investimento in questa bellissima terra. Prego. La traduzione sarebbe così. Emiro ha le sganci. Ma di nanna hai. Suo mastà chiede di poter non interloquire al momento. Nessun problema. Nessun problema davvero. Potremmo cambiare argomento e approfittarne per interloquire sul San Raffaele di Olbia. E l'emiro non vuole sentire il nome dei santi cristiani. Cambia argomento di nuovo. Prego Presidente, io lascerei perdere queste divisioni con cristiani da una parte musulmani dall'altra. L'emiro su questo punto non è d'accordo per non torbare la sua comunità. Sarebbe opportuno a questo punto iniziare a parlare di affari. Oggi c'è un sole che spacca il sedere ai passerotti. La giornata ideale è per mostrare questo ameno panorama che noi stiamo vendendo a stracco baratto. Pensi che per esempio in tutta questa zona il prezzo è 600 tonnellate a sardi compresi? Credo che potrebbe essere un ottimo investimento. Tra l'altro questa zona è ricca di metano. Insomma di riffa o di raffa potrebbe farsi un montone di dinà. Cambiamo argomento. Smesso di tagliare torte nuziali, Elisabetta Caralis, la nota subrette, si è data al taglio della fainè. A Sassari, in un noto locale del centro, Eli si è cimentata nello sporzionamento di una grande teglia del piatto tradizionale. Vediamo il servizio. Tu, Eli, attenti tu con la ruta, sennò ti ci impieghi. No, guai, che emozione, io non ne ho mai tagliato di questa cosa. Attenzione che caccia. Adrita quel cellulare che se filmi in discesa ne cade. Eh, ma come si fa però? Rirai tu con il fibbiano e uno più fuori. Eh, ma così è un po' guardato troppo vinile, si è tagliati a Giulienne. Da voi si è ruttura. E lascialo a fare. No, è tonta come tettina. Posa tu, andrà a paricciare. Io mi avevo mangiato da casa a casa. Ehi, Eli, gira la faccia per la foto. Brava! Ma non c'è lei un rigolo tagliato da me? Ma un'acrosi. Brava, brava. Si vede chi si è sassarisa. Ma incalcando stai. Brava, brava. E cosa cazzo ho fatto? Voi azzate e puoi salugassoni. Incagata. E' buona, però è buona. E l'esibizione della canalise rimbalzata viralmente sui social innescando una vivace polemica fra i sassaresi sull'origine della fainé. Una discussione che ha rischiato di degenerare con la minaccia di risa in piazza tanto che il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha convocato lo storico di Palazzo Ducale, Paolo Cau, per mettere l'ultima parola sulla vera origine della fainé. Il servizio. E adesso diamo quindi la parola al nostro storico capo d'archivio Paolo Cau, che è l'unico che sa queste cose di Sassari, anche compresa la fainé. Quindi, prego. Grazie. Dunque, quando Genova subentrò a Pisa nel dominio, smisero di arrivare i piselli da Pisa e iniziarono a sbarcare carichi di vagiore udondo che, essendo duro come Antirugrasio, voleva fatto a farina. Non sendo certo farina di fare ostia, i sassaresi ce lo buttavano, finché non è arrivato un genovese dal nome Matrugeciu Rudrudioni che gli imparò che non si butta mai niente e gli imparò anche a misciare la farina con l'acqua e con l'ozzo e a cozzerla nel forno di Rubani. Fendi si impiegherà una deglia dai ramai di Via Ramai. Questa è l'origine della fainé. Tutte le altre sono cazzate. Bene, era l'ultima notizia. Non ci resta che salutarvi e lasciarvi alla programmazione di Aspirina con il grande classico di Kikari Trudioni. Vi ricordiamo che Aspiri News va in onda tutti i martedì e i venerdì dopo le edizioni del Tg di Canale 12 a partire dalle 14 e che potete seguire il Tg di Aspiri News anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e sul sito di Canale 12. Arrivederci, buona serata.